Ciao ragazzi e bentornati su Open Music 360 Review. Oggi siamo qui per parlare del nuovo album dei Darktron intitolato Eternal Hails e pubblicato il 25 giugno dalla solita Peaceville Records. Nocturno Culto e Fenris, sebbene siano il duo più celebre nella storia del black metal, da anni si dedicano alla riscoperta e alla riproposizione di un sound che guarda agli albori stessi della nascita del heavy metal. In Eternal Hails, nello specifico, l'ispirazione sembra derivare dal doom, interpretato in realtà nella maniera più calligrafica possibile, cioè attraverso riff ciclici ed ipnotici e la scelta di basare i brani su tempi mediolenti che hanno la conseguenza di aumentare a dismisura il minutaggio dei singoli episodi e di rendere nel complesso l'album estremamente statico e monotono. Certo, l'inizio di His Master's Voice con quelle chitarre, col chorus che mai ci si sarebbe aspettati di ascoltare su un disco dei Darktron è illuminante in un certo senso, così come la coda strumentale di Lost Arkane City of Uppacra, che rimane a mio parere l'episodio migliore di tutto l'album, un finale atmosferico e di matrice quasi ambient che va a richiamare per certi versi alcuni stilemi del black metal anni 90. Non mancano poi le accelerazioni trash metal che gridano motore da squarciagola e alcuni momenti chitarristici di matrice New Wave of British Heavy Metal, che contribuiscono a speziare i brani in qualche sporadico momento. Nel complesso però se avete apprezzato, come il sottoscritto, gli ultimi due album dei Darktron come Arctic Thunder e Old Star, ecco Eternal Hailes potrebbe farvi storcere il naso. I momenti memorabili sono pochissimi. La produzione è probabilmente la più estrema e la più grezza, ecco, che il duo norvegese abbia adottato da tanti anni a questa parte. E se questo, per un certi punti di vista, potrebbe rappresentare un plus e una ricerca, ecco, di underground puro e marcio, dall'altra parte l'ascolto ne viene un po' minato, ecco. Quindi a mio parere Eternal Hailes merita un 6. Potete alzare a 6 e mezzo se apprezzate alcuni dei dettagli che ho descritto fino a qui, ma secondo me la sufficienza per questo disco è il massimo che si possa aspirare, perché i Darktron non hanno assolutamente bisogno di dimostrare più nulla a nessuno e si dedicano da anni a suonare solamente la musica che più gli piace proporre. Quindi questo è il mio pensiero, fateci sapere il vostro qui sotto nei commenti e noi ci vediamo ad una prossima video recensione. Un saluto!